ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video allora queste sono circa due settimane che io non esco per niente di casa sono uscita due settimane fa quando già c'era il divieto che non si poteva uscire soltanto per fare un po di spesa è stato massacrante perché si poteva entrare una alla volta e tutto chiaramente io non sono un esperto quindi non mi voglio assolutamente prendere il posto di un esperto perché non è così quindi prendete questo video come una chiacchierata tra amici e basta allora io quello che posso dire che per me è dura ma penso che sia dura anche per tutti è dura perché ci tiene lontano dai nostri cari ad esempio io lontano il mio fidanzato però magari un'altra persona può aver lontano un fratello una sorella uno zio eccetera è dura perché non puoi fare niente cioè non puoi uscire non puoi dire oggi voglio andare mettiamo al mare che ne so voglio farmi una gita non lo puoi fare è dura perché se ti vuoi comprare un qualcosa tipo cose secondarie non lo puoi fare è dura perché dobbiamo sta sempre chiusi in casa pure se non abbiamo fatto niente è dura perché non sappiamo quando finisce ma soprattutto è dura perché ci sono persone che non hanno fatto niente di male proprio niente di male che hanno beccato questa influenza e purtroppo non ci sono più queste persone non hanno avuto diritto le ha che ha a un funerale come si deve proprio niente le hanno prese come se fossero spazzatura io mi chiedo perché siamo finiti fino a questo punto io non lo so se uno un anno fa mi avesse detto guarda al 2020 sarà così 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 io non avrei mai creduto avrei detto tu ti stai inventando tutto perché non è possibile dai non credo invece siamo così dall'altra parte ci sono persone che sono vive che stanno bene però hanno paura a uscire perché comunque ci hanno paura perché un qualcosa di molto contagioso quindi ci hanno paura dall'altra parte ancora ci sono i parenti delle vittime che non possono neanche dare l'ultimo saluto non possono perché semplicemente perché questi cadaveri vengono considerati appunto come non so come definirli cioè come come se fossero delle bombe pronte ad esplodere cioè nel senso che come per dire hanno contratto questa cosa sono contagiosi quindi isoliamoli io spero che questa cosa si risolva al più presto perché noi non possiamo andare avanti così posso dirvi per me per me è dura restare a casa perché io comunque sono sempre stata abituata a uscire andare in giro a viaggiare a vedere posti nuovi soprattutto con la bella stagione quindi mo ritrovarmi diciamo a casa per me è dura ma lo faccio perché se questo può servire affinché questa cosa si fermi e si possa tornare alla normalità il prima possibile allora io farei questo ed altro quindi io resto a casa